I monolocali e bilocali vanno per la maggiore rispetto alle abitazioni di dimensioni più grandi. È il dato fotografato dall'Agenzia delle Entrate e riportato da Confedilizia e viene confermato anche dagli operatori marchigiani. Nel 2023 le compravendite sono risultate in calo rispetto all'anno precedente, una flessione che ha riguardato in misura maggiore le abitazioni di superfici superiori ai 115 m2. Il calo si è attestato intorno al meno 9,7%, più consistente per le case tra i 115 e i 145 m2 e per quelle oltre i 145 m2. Tra le motivazioni un'imu molto più leggera rispetto a quella salata che tocca ai proprietari degli appartamenti più grandi. L'ottimo investimento invece di tenere i soldi, adesso lo traduco molto rapidamente, invece di tenere i soldi in banca, li investono nel mattone comprando un immobile e la resa migliore è quella di avere un piccolo appartamento, un bilocale che ti permette di dare un'ottima resa dal punto di vista finanziario, più alto sicuramente rispetto a quello che ha in banca o in altre forme finanziarie non immobiliari. Da registrare anche un aumento della vendita degli affitti presso le città d'arte e universitarie senza dimenticare quelle lungo la costa. Anche in zone centrali o nelle città d'arte o nelle città universitarie questi investimenti vengono fatti ovviamente perché ci sono un'altra forma di locazione tendenzialmente dove c'è l'università, c'è la spinta da parte degli studenti di trovare un posto letto e trovare un appartamento e quindi anche lì le locazioni sono molto richieste e anche lì la forma di investimento sull'immobile di piccola metratura è molto richiesta. I mini appartamenti rappresentano un volano per lo sviluppo turistico della nostra regione e proprio per questo vanno sfruttati nel migliore dei modi. Dovremmo utilizzare invece questa forma di attrazione per le nostre zone costiere soprattutto dove c'è ancora molto turismo la possibilità di raccogliere sia dal punto di vista alberghiero che dal punto di vista locativo più persone perché il turismo porta un indotto economico per le zone molto importanti.